In Basilicata le attività in nome per conto del Servizio Sanitario Nazionale a partire dal 1 gennaio sono sospese. Ben 51 strutture private accreditate hanno interrotto l'attività. La battaglia con l'ente di via Verrastro sui tetti di spesa e le prestazioni non pagate rischia di concludersi nel peggiore dei modi, portando le associazioni di categoria del settore sanitario privato accreditato e il Comitato dell'Unità di Crisi Basilicata a una decisione drastica. Gravi le conseguenze sulla salute dei cittadini che non possono più curarsi col servizio pubblico e sull'occupazione per i lavoratori del comparto. Intanto il Dipartimento Salute della Regione ha convocato in incontro l'11 gennaio un appuntamento che per le strutture sanitarie private però è evidentemente fuori tempo massimo, se uno strumentale rispetto alle richieste urgenti di tutte le associazioni. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di cittadini, di pazienti, di prestazioni che sono annullate e soprattutto stiamo parlando anche di posti di lavoro seri, di imprese che sono le strutture sanitarie che sono sane e sarebbero costrette a fallire per mano pubblica. Tutto questo ci sembra davvero assurdo. Intanto sono stati stampati e diffusi 554 mila volantini, su cui è presente anche un numero WhatsApp. Viene chiesto ai Lucani di inviare un messaggio da consegnare al Presidente Bardi, coinvolti anche tutti i sindaci della Basilicata.